Carla Badiale, vale a dire como, è anche pittrice, forse soprattutto pittrice, legata al momento dell'astrattismo e del razionalismo comasco ma forse perché la sua terra ha proprio la porta ad avere a che fare con il mondo del tessile Carla Badiale disegna anche moltissimi soggetti per tessuti e qui se ne vedono alcuni divertenti negli anni 50 con queste caramelle gommose che poi nelle fotografie possiamo vedere come sono stati riutilizzati oppure anche il modo col quale procedeva nel senso che questo ritaglio fotografico propone delle bollure che Carla Badiale aveva interpretato e poi qui vediamo che sono riutilizzate per esempio per questo ombrello e la gonna realizzata successivamente con un tessuto però di Carla Badiale ripropone questi motivi a fasce grazie